La delocalizzazione della centrale Nel Alacona ha trovato un esito felice, un esito condiviso da tutti i partner? Un esito del quale abbiamo parlato con il senatore Tancredi, con Giorgio D'Ignazio, con Luciano Monticelli, poiché era un esito a portata di mano che ci permetteva di mettere risorse finanziarie, risorse amministrative, documentazione tecnica per trovare un nuovo sito, supportando anche quelli che dovevano delocalizzare con una contribuzione. Noi come Regione ci abbiamo messo 2 milioni e mezzo di euro e abbiamo composto la posizione collaborativa di Enel e di Terna. Oggi se abbiamo questo risultato è frutto di questa straordinaria collaborazione che è partita con uno stimolo del Comitato Popolare Cittadino con il Presidente che in prima persona è venuto a sollecitarmi accanto al Consigliere Monticelli. Lo zoo profilattico ci metterà il terreno che è terreno del bilancio consolidato della Regione. Noi siamo pronti per partire. Adesso però bisogna andare speditamente. Beh assolutamente sì, non manca nulla, c'è la volontà di tutti, ci sono le risorse, c'è il sito, procediamo con la cantierizzazione e qui tornerà il bello, la comodità e l'agiatezza per i cittadini. Sindaco, questa mattina un convegno per parlare di questa delocalizzazione della centrale Cona che ha avuto un esito molto positivo. Io direi difficile, ci sono tutte le premesse per portare a casa questo progetto, per fare presto. Abbiamo individuato l'area in accordo anche col Comitato nell'area di Gattia, di proprietà dell'IZS, abbiamo già messo in campo un'attività con l'IZS, approvato una delibera, ci sono 2 milioni e mezzo di euro che probabilmente non saranno sufficienti ma c'è la disponibilità di Enel e di Terna di collaborare anche da un punto di vista economico. Adesso c'è necessità di fare l'accordo di programma, però mi sembra che ci siamo. Dobbiamo cercare di velocizzare un po' la burocrazia perché purtroppo i tempi per i permessi saranno lunghi, però su questo bisognerà lavorare. Però mi sembra che questa mattina, l'ho voluto sottolineare, ci sono tutte le premesse. Ho anche rivolto un po' un invito a mettere da parte quelle che possono essere, come dire, cioè la gara a chi ha fatto prima, a chi mette prima il cappello, questo non serve. Guardiamo i problemi e cerchiamo di risolverli.